Il Comune di Pesaro, oltre al bonus innovazione e al bonus blocco attività, ha cercato di fare delle azioni che andavano direttamente in aiuto delle imprese. Adesso con il bonus Tari, ieri si è conclusa la possibilità di fare la domanda e hanno partecipato circa 160 imprese. Quindi è un aiuto concreto, avranno il 50% della quota che hanno pagato negli anni precedenti e cerchiamo di andare in aiuto in questo senso. Però non ci fermiamo, abbiamo anche nuove idee e nuovi progetti che riguardano l'impresa. E soprattutto la digitalizzazione. La cosa strana che abbiamo notato delle imprese del pesarese è che i dati sono in positivo. Nel senso che nel 2020 sono più le imprese che hanno aperto di quelle che hanno chiuso. Quindi da parte degli imprenditori c'è la voglia di lavorare all'interno di Pesaro. E noi come amministrazione dobbiamo cercare di accompagnarli in questo nuovo modo di fare commercio e impresa che riguarda appunto il digitale. Abbiamo visto che parliamo di transizione oncologica, transizione digitale e quindi è giusto che l'amministrazione segua e aiuti le imprese con la formazione e creare dei progetti che mirano a semplificare il lavoro delle imprese. Tra le attività chiuse è un aiuto importante in arrivo per i circoli. Sì, abbiamo voluto anche aiutare i circoli della nostra città perché sono chiusi da troppi mesi. Hanno bisogno di un aiuto anche loro perché sono un aiuto alla collettività e anche come sappiamo anche gli anziani si ritrovano dentro questi circoli e socializzano. Quindi è fondamentale dare un aiuto e dare anche una risposta a loro e quindi la scorsa settimana è passata in giunta questa delibera che va in aiuto dei circoli.